Dopo un iter complesso e articolato, nella giornata di oggi il Comune di Ischia ha ufficialmente ceduto alla città metropolitana di Napoli un'importante area del centro polifunzionale in via Morgioni. Si tratta di un'operazione fondamentale per la risoluzione dell'annosa problematica della carenza di aule per gli istituti scolastici di secondo grado dell'isola di Ischia. Con la cessione dell'area interessata, la città metropolitana potrà avviare i lavori che permetteranno alla comunità scolastica ischitana di poter contare su nuove aule confortevoli e adeguate alle necessità degli studenti. Il sindaco di Ischia Enzo Ferrandino ha commentato così la notizia ricordo il viso di alcuni giovani studenti del liceo che accompagnai in un'iniziativa di protesta promossa a piazza Matteotti per rivendicare la risoluzione della problematica nosa della carenza di aula per la istruzione secondaria sulla nostra isola. Dopo cinque anni possiamo dire di aver vinto questa battaglia. Allora abbiamo un dialogo rivelatosi poi infruttuoso con il sindaco De Magistris e il delegato Marrazzo, dialogo ripreso con evidenti migliori fortune con l'attuale sindaco Manfredi per il tramite dell'amico e consigliere metropolitano ischitano, sindaco di Barano d'Ischia, Dionigi Gaudioso, che ringrazio per la proficua collaborazione. Enzo Ferrandino ha poi aggiunto è stato un lavoro di squadra che ci soddisfa e che rappresenta un momento storico per la comunità scolastica isolana. Adesso bisogna operare moltiplicando ulteriormente gli sforzi per garantire anche la definitiva soluzione delle complicate carenze degli spazi che riguardano l'istituto alberghiero Vincenzo Telese. Alla città metropolitana, conclude il sindaco di Ischia, chiediamo nell'ambito dell'area circostante al plesso esistente di realizzare delle ulteriori volumetrie da destinare ai ragazzi che frequentano la nostra scuola alberghiera.